Siamo andati a cercare i bambini di allora, dello zecchino d'oro, per riascoltare le più belle canzoni della nostra infanzia e poterle cantare oggi a casa nostra, insieme ai nostri figli. Rita dalla Chiesa presenta 44 Gatti, un programma che ci fa conoscere i protagonisti di ieri. E insieme a tutti loro, Paolo Bonolis, Cino Tortorella, Marielle Ventre, Cristina D'Avena, Fabrizio Braconeri e Topo Gigio. 44 Gatti, domenica 17 e domenica 24 ottobre alle 20 e 30, su Panarecino. mountaine 25 gatti, domenica 24 gatti, giochiRocketti e ruota Dalla terra più ricca e generosa, i pisellini più teneri e dolci. Pisellini Primavera del Fiore Verde, il fiore della terra, da Findus. Con la riforma gli italiani pagheranno meno tasse. Caro, cosa mangi? Mangio uno yogurt. Che yogurt? Alla frutta. Sì, ma che frutta? Ma avete mai provato Danone? Lo yogurt Danone è ricco di pezzi di frutta, è così cremoso e ti fa sentire al massimo il gusto della frutta. E allora? Fragua! Danone alla frutta, cremoso lo yogurt, gustosa la frutta. Danone! Perché l'inesetali è l'assorbente più venduto in Italia? Per me perché solo con l'inesetali ho provato cosa vuol dire sentirsi veramente asciutta e pulita. E poi la mia biancheria è più protetta. Certo, l'esclusivo filtrante seta fa passare il flusso rapidamente impedendogli di risalire. Risultato? Asciutto e pulito. E poi guarda, grazie alle ali anche i bordi delle mutandine sono puliti. Line setali e line sete. E mi sento più asciutta e più pulita. Ci sono gesti che fanno grande l'amicizia. Oggi c'è un nuovo ringo, nutriente di crema al latte, ricoperto di cioccolato goloso. Nuovo ringo, latte e cioccolato. Amaro Montenegro ha un sapore, un sapore che non ti sbaglia. Amaro Montenegro, sapore vero. Cosa sarebbe una giornata senza il blu? Il blu di un momento più intenso. Il blu di crema e gusto Lavazza. Buono, dal gusto forte e appassionato. Crema e gusto, da Lavazza. Perché il caffè è un piacere. Una presentazione ambipur permanente, efficacia, assicurata. Domani, alle 20 e 30, per il ritorno di Colombo, in prima televisiva mondiale, un grande appuntamento con il tenente di polizia, reso famoso dal suo grande intuito e dalla sua infinita pazienza. Un film tutto inedito, tratto da un soggetto dello stesso Peter Falk. Donne pericolose per il tenente Colombo. Un misterioso omicidio scatena pitte indagini, ma il fascino di Loren non risparmia nemmeno l'irreprensibile tenente di polizia. Con la bellissima Faye Danuey, per la prima volta nella sua vita, il tenente Colombo è il pericolo. Donne pericolose per il tenente Colombo. Domani, alle 20 e 30, su Rete4.